Anche se siamo nel pieno di una vera emergenza, la donazione di sangue non si ferma. Si può donare tranquillamente il sangue seguendo le precauzioni che ci sono state indicate dallo stesso centro trasfusionale. Rispettate innanzitutto l'orario della chiamata, cercate di non sedervi vicino gli uni con gli altri, i medici effettueranno una visita approfondita che comprenderà anche la temperatura corporea. Se vi sentite più a vostro agio ad indossare una mascherina fatelo senza nessun tipo di problema, per ogni dubbio o necessità chiedete pure ai medici del centro trasfusionale.